Per me è lui tende. È il migliore sulla piazza. Cosa fa un ladro quando deve compiere la rapina del secolo? Si rivolge all'altro ladro. Cosa vuoi? Un socio. Io sto pensando alla gioielleria, Romano. Per favore. Il menoripi potrebbe entrare in un posto del genere. Commettiamo? Avevo detto che sarebbe stato facile. Avevi detto nemmeno che sarebbe stato impossibile. Io sono nato per il bar. In prima visione free, Code. Mercoledì alle 21.10 su Rai4.